Terapia di coppia in fase avanzata, quindi dopo qualche incontro, la coppia sta meglio, i coniugi hanno ritrovato il loro equilibrio, parte di esso, comunque una parte importante, e mi dicono noi adesso stiamo bene, sentiamo di essere nella direzione giusta, di aver raggiunto appunto gli obiettivi che ci avevamo prefissati. Il problema è che abbiamo il timore che in un qualche modo il problema si possa ripresentare, ossia come facciamo ad avere la certezza di non ricadere nella situazione precedente, come facciamo ad avere la garanzia che queste difficoltà, ciò che abbiamo vissuto, in un qualche modo non si ripresentino, ritorni. Bene, io la risposta che solitamente do in questa situazione è che è impossibile, nessuno può avere la garanzia che non si ripresenteranno delle difficoltà, che la coppia non ricadrà magari nella difficoltà precedente. Ci si può sicuramente da un lato andare a strutturare e formare rispetto alla percezione, alla capacità di leggere quali possono essere dei segnali che poi sono in qualche modo dei campanelli di allarme nell'andare a generare una situazione di crisi, e questo è un lavoro che viene sempre fatto all'interno della terapia di coppia, cioè vengono forniti ai pazienti gli strumenti necessari per farsi ad essere sensibili ai campanelli di allarme che appunto sono gli elementi determinanti della loro crisi. Dall'altro lato, cosa ancora più importante, è che proprio perché non si ha questo tipo di garanzia, la forza della coppia non deve essere quella di concentrarsi sul sicuramente non avremo più delle difficoltà, sicuramente questo problema non si presenterà più per noi, ma da questo problema ne siamo usciti, da questo problema siamo riusciti a trovare la soluzione e siamo riusciti ad affrontarlo per andare a ripristinare il nostro equilibrio, il nostro benessere. Questa è la forza, è la certezza che la coppia deve avere, per questo io rispondo non potrete mai avere una certezza di questo tipo, ma sarete certi di avere la mobilità necessaria, cioè le capacità necessarie per riuscire ad affrontarlo e riuscire a risolvere, perché lo avete appena fatto, perché o meglio lo state facendo e lo stiamo facendo insieme ed insieme siete arrivati appunto a questo risultato, che ad oggi è soddisfacente e che deve essere naturalmente coltivato, innaffiato quotidianamente per far sì che poi appunto non si ricada nella situazione precedente. Quindi i due elementi di protezione e quindi in risposta ad una domanda di questo tipo sono sicuramente la capacità di leggere i campanelli di allarme che vanno ad instaurare, vanno a scatenare una crisi in una coppia e dall'altro lato la consapevolezza e la certezza che lavorando insieme è possibile uscirne, perché lo si è già fatto.